Questa è la 62esima stagione concertistica. Speriamo che, visto anche la normativa che ci aiuta a consentire che il pubblico sia presente al 100%, che sia una stagione carica di entusiasmo e di buon successo. I nostri teatri quest'anno sono penalizzati, sappiamo tutti che il Rossini è chiuso per restauro, il Pedrotti lo stesso. Quindi ci adegueremo alla struttura del teatro sperimentale, alla quale ospiterà 5 concerti di assoluto livello, anche quest'anno. Abbiamo ad esempio Angela Hewitt, che è una pianista eccezionale, la quale è un'interprete di grande prestigio della musica di Bach. Abbiamo il duo Bartolomei Beatman, che è un duo viennese che adocchia un po' al grande Hauser, Steffi Hauser, e che va al di là della musica classica, cercando nuove sonorità e nuove performance. Abbiamo la musica classica con il violoncellista Enrico Dindo, accompagnato da Monica Cattarozzi, che propone ancora il classico, Rachmaninoff, Donani ed altro. E soprattutto abbiamo una gloria pesarese, che è Lorenzo Bavai, un grande nostro collega ed eccellente pianista. Infine abbiamo un violinista molto noto, che è Vadim Brodsky, il quale esegue il repertorio classico da Bach a Brahms a Sansan. La stagione va da ottobre a dicembre, è una prima parte. Poi, alla luce dei nuovi regolamenti che verranno prodotti, procederemo con altre programmazioni. Gli abbonamenti degli abbonati storici saranno il 13 e 14 ottobre al Teatro Rossini. Gli abbonati che si vorranno abbonare quest'anno partono dal 15 ottobre. I costi saranno per i 5 concerti in platea abbonamenti 60 euro, 5 concerti in galleria abbonamenti 40 euro. I biglietti in platea costano 15 euro, in galleria 15 euro. I giovani under 25 pagheranno 5 euro. A Senigallia i nostri abbonati pagheranno 5 euro. I nove appuntamenti, i cinque su Pesaro al Teatro Sperimentale. Siamo facendo i lavori al Teatro Rossini, quindi ovviamente siamo un po' in costrizione di spazi. Quindi lo Sperimentale spetterà le realtà cameristiche, le realtà meno impegnative dal punto di vista degli organici. Mentre c'è questa bella collaborazione con Senigallia dove le parti di orchestra verranno invece ospitate appunto al Teatro La Fenice. Ed è una collaborazione che ci fa particolarmente piacere perché il riconoscimento di musica, di città creativa dal musico unnesco, l'abbiamo vissuta come appunto Pesaro, elemento tra inante anche delle Marche. Quindi crediamo che sia coerente con tutto questo.